Il rischiato di morire è annegata mentre stava facendo il bagnetto a casa. Gli inquirenti non escludono il gesto volontario della mamma ricoverata sotto sciocchi in ospedale e accaduto alle porte di Udine. Nell'ultimo anno sono stati arrestati 11 trafficanti di droga che trasportavano eroina e cocaina in ovoli ingeriti. 11 kg di stupefacente che hanno attraversato così i confini. Udine e Gorizia fiere in sofferenza e vertici non parlano fino all'assemblea dei soci di lunedì. Pordenone è pronta a giocare un ruolo strategico nel panorama regionale. Il presidente Pugliatti e il sindaco Ciriani cauti sulla fusione. E la mascotte del centro di recupero della fauna selmatica di Campo Formido si chiama Laura. È un cinghiale di due quintali e mansueto e ama farsi di coccolare e viziare soprattutto dei bimbi. Finita l'avventura europea dell'Under 21, l'attenzione dei tifosi è tutta per l'Italia femminile che si sta giocando gli ottavi di finale con la Cina in diretta all'Atmosfera in centro Udine. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Versa in gravi condizioni una bambina di sette mesi è negata nella vasca di casa mentre la madre stava preparando il bagnetto. Gli inquirenti non escludono possa trattarsi di un atto volontario da parte della mamma ora ricoverata a Udine sotto shock. Sono gravi le condizioni della bambina di sette mesi rimasta immersa per troppo tempo nella vasca di casa dove la mamma aveva preparato il bagnetto. La piccola che vive con i suoi genitori in un paese alle porte di Udine si trova ricoverata all'ospedale di Padova. Per lei la prognosi è riservata. Adare l'allarme era stata la madre che aveva chiamato il 912. In una comunicazione concitata dai contenuti sconvolgenti aveva chiesto aiuto per la bimba. Sofferente in maniera molto grave per un principio di annegamento. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato della squadra mobile della Questura di Udine. Si stanno valutando infatti eventuali profili di responsabilità da parte della madre. Lo stesso procuratore capo della procura di Udine Antonio De Nicolo sottolina come si sta indagando a 360 gradi e non è esclusa la volontarietà da parte della mamma di soffocare la bambina. La donna seguita dal centro di salute mentale è ricoverata all'ospedale di Udine non sedata, sotto shock e comunque curata per il gravissimo trauma psicologico che ha riportato. Poco dopo essere entrata con la bambina in ospedale infatti era svenuta. Coordinati dalla procura, gli investigatori stanno cercando adesso di ricostruire le ultime ore prima dell'incidente e di ricostruire il quadro familiare di questa mamma. Al momento non sono state disposte misure cautelari. Un bambino è stato soccorso oggi a Fontana Fredda per un braccio incastrato nelle porte dell'ascensore. Vigili fuoco hanno tolto la corrente e hanno liberato subito l'arto del piccolo. Minaccia madre e patrigno in preda all'alcol e lì costringe a baricarsi in casa e a chiedere l'intervento dei carabinieri. Protagonista dell'episodio, un soggetto di San Giorgio della Rechinvelta purtroppo noto alle forze dell'ordine, ai residenti del paese e nonché ai suoi familiari. L'uomo poco dopo la sua fuga è stato denunciato per minacce aggravate e non solo nei giorni successivi vista la pericolosità sociale e la sua familiarità con lame e coltelli ha ricevuto il divietto di avvicinamento all'abitazione dei due coniugi per non meno di 300 metri. Il residente è un osservato speciale, si tratta infatti della stessa persona che il 21 marzo scorso a Provesano in preda ai fumi dell'alcol aveva minacciato con un'accetta agli avventori del Bareddi dopo aver molestato una cliente che non voleva ricambiare le sue avance. Sono in corso da questa mattina le ricerche di una persona che secondo la segnalazione di un passante si sarebbe gettata dal ponte di Tremeacque sul fiume Livenza in località Ghirano di Prata di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone e la squadra soccorso acquatico oltre all'elicottero Drago 71 del reparto volo dei vigili fuoco di Bologna al nucleo sommozzatori di Venezia ed un'ulteriore squadra fluviale proveniente dal comando di Treviso. In prossimità del ponte è stata individuata l'autovettura della persona coinvolta. Sul posto anche i carabinieri di Fontanella e di Treviso. Alle 13 le ricerche di profondità da parte dei sommozzatori sono state sospese in quanto le condizioni del fiume non consentivano di proseguire in sicurezza. Le ricerche di superficie proseguono con soccoritori acquatici in moto d'acqua. Nel 245 anno di fondazione della Guardia di Finanza il comandante provinciale di Udine ha fatto il punto sull'intensificazione del traffico di droga ai confini con l'Austria. 11 le persone fermate con 11 kg di eroina o cocaina nella pancia. Il friuli Venezia Giulia è caratterizzato da una collocazione geopolitica di frontiera che lo vede interessato da traffici illeciti di varia natura con riferimento ai quali la regione è stata interessata principalmente per fattispecie di transito. Lo ha sottolineato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Udine in occasione della festa per il 245esimo anno di fondazione. Un anno e mezzo di lavoro intenso sulle direttrici principali che riguardano questo territorio. Ne parlavamo prima anche durante la cerimonia. Una cosa che caratterizza la nostra attività è il fatto di essere territorio di frontiera. Questo non è cambiato con l'avvento del regime comunitario. Il traffico di stupefacenti è un settore sul quale abbiamo nell'ultimo periodo visto dei risultati significativi sia con attività preventive in un certo senso, sempre al confine. La sola compagnia di Tarvisio ha preso quasi 11 kg di stupefacenti nel corso di un anno. È stato individuato un flusso di ovulatori, cioè persone che ingeriscono decine, qualche volta anche fino a 100 ovuli contenenti eroina e cocaina per trasportarli da un paese all'altro e portarli poi a destinazione. Ne sono stati individuati 11 quest'anno attraverso il confine con l'Austria. Un'altra attività invece più strutturata, quindi basata poi, partita anche questa, da attività sul territorio con un fermo di stupefacenti qui in stazione di Udine e poi sviluppatasi con tecniche investigative adeguate, intercettazioni e tutto quello che era necessario è un'operazione che è portata poi a 8 arresti, al sequestro di 36 kg di sostanze di varia natura e a eliminare dalla piazza di Udine una banda di spacciatori che era molto ben inserita soprattutto nelle realtà particolarmente sensibili qui di Borgo Stazione. Festa per i 245 anni di fondazione della Guardia di Finanza anche a Gorizia bilancio positivo per le fiamme gialle che annualmente presidiano i confini provinciali. Festa per i 245 anni della Guardia di Finanza anche a Gorizia nella centrale caserma di Via Diaz non solo la consegna degli encomi ai finanzieri che nell'ultimo anno si sono distinti nelle varie operazioni portate avanti ma anche per fare il bilancio di quanto eseguito. Sicuramente la lotta ai traffici illeciti che avvengono lungo la linea di confine abbiamo operato con intensità e diotturnamente con pattuglie sia in abiti civili che in abiti in borghese e comunque sì abbiamo realizzato elevatissimi risultati di servizio con riferimento al contrasto al traffico di valuta. Sono 7 milioni i valori intercettati nell'ultimo anno e mezzo, 200 migliorazioni accertate su 800 controlli eseguiti in questo settore. Grande impegno anche nel contrasto al traffico di gasolio, di contrabbando e al traffico di stupefacenti. Tra le operazioni ancora in corso anche la Grande Tagliamento. L'operazione Grande Tagliamento è una grande operazione che abbraccia non solo il contesto territoriale friulano ma anche il resto d'Italia. L'attività è ancora in pieno svolgimento. Abbiamo sviluppato diverse operazioni di servizio in questo tema con la denuncia di alcuni soggetti che ovviamente tembravano il cartellino e poi non figuravano presenti nell'ente pubblico dove erano destinati. Anche su questo fronte continuerà il nostro impegno anche sulla base delle segnalazioni che pervengono dagli enti. I vertici di Udine e Gorizia Fiere non parlano, non lo faranno almeno fino all'assemblea dei soci di lunedì 1 luglio in occasione della quale, salvo sorprese, il presidente Luciano Snider formalizzerà le proprie dimissioni e quelle del Consiglio di amministrazione. Il buco di 750 mila euro registrato nel 2018, terzo bilancio in rosso, pesa sulle prospettive future della fiera. Servono una visione, un modello diverso al quale ispirarsi, idee e la fusione. Con Pordenone è un'ipotesi che nella destra tagliamento non ha preso corpo, tanto minora. Il presidente Snider non parla, non vuole alimentare polemiche in questa fase delicata. L'assemblea di lunedì sarà la sede del confronto, analisi e commenti arriveranno dopo eventualmente. Sulla stessa lunghezza d'onda è Giovanni da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, ente che è socio di maggioranza della fiera, di cui detiene poco meno del 49% delle quote. Se Udine soffre, Pordenone Fiere è pronta a giocare un ruolo ancora più strategico nel panorama regionale. Al momento non si parla di fusione, oltre al presidente Renato Puiati, anche il sindaco Alessandro Ciriani è molto cauto. Non ha senso, una holding si occupi di tutto. Le nuvole nere che si addensiano attorno a Udine e Gorizia Fiere, ente che ha presentato il terzo bilancio in passivo e visto le dimissioni del CDA, aprono a nuovi scenari per Pordenone Fiere. La SPA di Viale Treviso è pronta a diventare ancora più centro di riferimento regionale. Spiace che una società che lavora come noi per il territorio abbia delle defiance, non dipende certo da questo Consiglio di Amministrazione e dal suo presidente che apprezzo particolarmente. E quindi questo è un risultato che sicuramente, fiera di Udine, la società e i soci troveranno modo di rilanciare la società o riconvertirla a cose diverse, perché l'importanza di queste società che sono pubblico-private sono proprio nello sviluppare business, laddove diventino un peso per il territorio e per i propri soci non hanno più ragione di esistere così come sono, ma vanno riadattate ai tempi che sono più moderni. Ma al momento nessuna fusione con Udine. Non dipende da me, ma dipende dai soci. Io mi occupo di gestire, sono sia presidente che amministratore delegato di Pordenone Fiere. È una società per azioni, i soci decidono per il meglio di questa società e io ho l'incarico, secondo le indicazioni dei soci, di portarla avanti. Diciamo che in questo momento non è prevedibile, perché prima ci dovrà essere una destinazione diversa da parte dei soci di Udine Fiere, per dare alla società magari una continuità in altri settori ben più importanti e che possano dare risultati ottimi, dopodiché si vedrà qual è la sistemazione e la soluzione e il futuro delle singole società. Per ora la nostra è salda, è solida, è attiva. Il comune di Pordenone, socio di maggioranza della fiera, resta cauto. Non vedo bene l'idea di una holding che di fatto governa tutte le fiere, per una semplice ragione, che c'è una fiera che corre, che fa numeri, che fa utili, che fa investimenti e altre che piuttosto, purtroppo devo dire, arrancano. Conseguentemente qualsiasi operazione deve tenere in considerazione il ruolo di eccellenza di Pordenone. 33 cuccioli di cani e gatti provenienti dalla Slovacchia introdotti legalmente in Italia sono stati individuati dal Corpo Forestale Regionale della Polizia Stradale di Palmanova in A4. Gli animali erano a bordo di un mezzo condotto a due cittadini italiani che sono stati denunciati per trasporto di animali da compagnia al fine di trarne profitto dopo averli fatti entrare in Italia senza rispettare le disposizioni di legge. Si è barricato in casa con un coltello da cucina minacciando di farsi del male, di far esplodere con il gas il palazzo, ma dopo l'intervento di un agente di polizia che ha instaurato con lui una conversazione amichevole, l'uomo, un triestino di 40 anni, ha desistito e ha chiesto di essere accompagnato in ospedale per accertamenti. E' accaduto ieri sera via Canova a Trieste, un equipaggio della squadra volante giunto sul posto a seguito della segnalazione di una persona che messasi a cavalcioni sul parapetto della finestra di casa minacciava di lanciarsi nel vuoto. Una volta visti gli agenti sanitari del 118 e i vigili del fuoco che nel frattempo avevano collocato una scala, un telo a salto al di sotto del balcone, l'uomo, in forte stato di agitazione, si è barricato in casa fino all'intervento dell'agente che lo ha fatto desistere. Il Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia esprime profonda preoccupazione e contrarietà rispetto all'ipotesi ventilata dal Presidente della Regione Massimiano Fedriga di chiedere la sospensione dell'applicazione di Schengen lungo il confine italo-sloveno. L'unico effetto concreto di una sospensione di Schengen, sottolinea una nota firma del Presidente del CSI Friuli Venezia Giulia Slovenia Roberto Treu, sarebbe quello di ostacolare la libera circolazione della persona con ricadute importanti anche in termini economici, culturali e sociali. A risultarne penalizzata, aggiunge Treu, sarebbe la ormai consolidata mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori trasfrontalieri nelle due direzioni. Via libera dell'Aula del Consiglio regionale al DDL Omnibus proposto dalla Giunta. Il provvedimento è passato con i voti della maggioranza. Nella norma sono contenuti per lo più adeguamenti tecnico-amministrativi, ma anche interventi che riguardano la sanità, come ad esempio lo spostamento del punto nascita dell'ospedale di Palmanova a quello di La Tisana. Ha approvato anche la proroga per gli operatori sociosanitari al 31 dicembre 2021 come termine per completare il percorso di formazione professionale, un'iniziativa che coinvolge 800 persone. Sul fronte occupazionale è stato approvato, tra gli altri, un articolo che riserva gli incentivi alle aziende che assumono lavoratori penalizzati dalla crisi e residenti continuamente in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni. Disco verde anche alla compartecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia con 350 mila euro le spese dello Stato per i rimpatri forzati dei migranti. Per quanto riguarda il comparto delle edilizie, è stato approvato un emendamento che semplifica la possibilità di ampliare del 70% la superficie degli edifici in zona D, esclusa le cave, in sede di sportello unico, attività produttive senza parere preliminare del Comune. Novità infine anche per quanto concerne la caccia, con l'approvazione di un emendamento che consente l'utilizzo di puntatori laser, fonti luminose e termiche per la caccia di selezione al cinghiale. Scegliere di riservare incentivi alle aziende che assumono lavoratori penalizzati dalla crisi e residenti continuamente in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni è una decisione fortemente innovativa poiché coniuga la necessaria attenzione della Regione alle esigenze delle imprese vincolando l'erogazione dei contributi a parametri oggettivi legati all'impegno delle aziende sul territorio all'altrettanto indispensabile tutela dei lavoratori del Friuli Venezia Giulia e quanto afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimino Fedriga in merito alla misura in materia di lavoro inserita nella DDL Omnibus. Il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin presa nel corso dei lavori d'Aula la notizia della morte del padre dell'assessore Barbara Zilli ha espresso il cordoglio dell'Assemblea formulando le condoglianze a nome di tutti i consiglieri. Diego Antonini è stato indicato dalla Giunta Fedriga quale nuovo Presidente di Insiel, società in house della Regione che si occupa di servizi informatici, prendere il posto di Simone Pucsic. Abbiamo identificato la figura del nuovo Presidente del CDA di Insiel una figura di grande rilievo, una figura di grande competenza. Si tratta di Diego Antonini, è un manager che attualmente lavora a Roma presso una delle top player dell'informatica mondiale, cioè dire Oracle. Il Dottor Diego Antonini, triestino di nascita, verrà a ricoprire questo importante ruolo perché ne abbiamo riconosciuto una grande competenza. Lui si occupa soprattutto di applicativi legati alla pubblica amministrazione e quindi ci è sembrato che faccia al caso nostro. Lo abbiamo scelto anche fra un numero notevole di possibili candidati. Qualcuno mi ha chiesto spesso come mai non più Simone Pucsic, che anzi ringrazio per il grande lavoro fatto finora. La scelta è legata a motivazioni proprio legate alla competenza specifica di cui avevamo bisogno. 334 nuove assunzioni in un anno. Il protocollo, sottoscritto a maggio 2018 e prorogato ad aprile 2019 per dare una risposta ai lavoratori licenziati nell'Isentino, produce risultati importanti, dichiara Alessia Rosola, assessora regionale al lavoro. All'indomani dell'incontro per il monitoraggio dello stato di attuazione del protocollo firmato a Gorizia, a cui hanno preso parte anche il sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, i rappresentanti di Confindustria e delle organizzazioni sindacali. Nell'occasione è stato fatto il punto delle azioni messe in campo dalla regione, con particolare riferimento al Recruiting Day organizzati negli ultimi mesi. Ecoblitz di Goletta Verde a Monfalcone per dire stop al carbone e chiedere la riconversione del sito. Goletta Verde in questi giorni a Lignano ha fatto tappa anche a Monfalcone con un apposito ecoblitz di fronte alla centrale A2A, un modo per ribadire la contrarietà di lega ambiente al carbone e proporre fonti di energie alternative. In questo momento al Ministero si sta discutendo della chiusura entro il 2025 del carbone nelle centrali del Nord Italia. Noi abbiamo presentato già da anni una proposta di riconversione che crediamo sia la cosa più importante e da iniziare a ragionare già da oggi. Siamo già in ritardo per cui vorremmo che si imprimesse una nuova svolta alla politica energetica nazionale puntando sulle rinnovabili facendola finita con i combustibili fossili. Perché in questa 33esima edizione di Goletta Verde, la nostra storica campagna difesa del mare, vogliamo puntare l'attenzione non solo sull'inquinamento del mare ma anche all'inquinamento delle coste e quello che rimane da fare nelle coste soprattutto per quanto riguarda bonifica sia industriale che non. Monfalcone è un buon esempio di un impianto industriale che va chiuso, c'è un tema di bonifica, c'è un tema di riconversione energetica che può portare molti posti di lavoro e un sostanziale miglioramento della qualità della costa friulana. È in corso la partita del Mondiale di Calcio Femminile tra Italia e Cina che vede protagoniste le due calciatrici friulane, Saragama, capitano e l'aria Mauro. Le azzurre stanno vincendo 2-0 in piazza 1 maggio. Fin dalla prima partita è stato restito uno schermo per seguire le gare e il pubblico è aumentato di successo in successo. Allora vediamo com'è l'atmosfera lì in piazza con il nostro Marco Pasquarello in diretta. A te la linea. Sì, buongiorno allo studio. Dietro di noi un folto pubblico sta seguendo l'avventura delle azzurre che come hai detto tu Alexis stanno vincendo 2-0 contro la Cina e quindi chiedo subito alla nostra ospite Florinda Ciardi. Che partita è questa sera? È una partita difficile, stiamo giocando molto bene. Penso che le ragazze stanno soffrendo molto il caldo però stanno dimostrando come al solito un gran bel calcio. Fino alla fine insomma non diciamo niente. Ecco, Florinda Ciardi ha organizzato questo evento. Si aspettava questa cornice di pubblico? No, non mi aspettavo tutte queste persone diciamo che è andato ad aumentare man mano. Mi aspettavo più che altro dal comune che venisse fuori un maxi schermo. Cioè si investe sempre troppo poco sulle ragazze e stanno dimostrando veramente di meritare molto più attenzione. Ecco, svegliamo quello che non è un segreto. Florinda Ciardi ha anche vestito la maglia della nazionale italiana. Come vede questa squadra e come vede Milena Bertolini, la CT, che è stata sua compagna di squadra? Milena sono anni che la sponsorizzo perché secondo me è uno dei migliori allenatori che c'è adesso in Italia. anche se stanno venendo fuori molte realtà molto interessanti. In Cagorino sta facendo delle grandi cose con la Juventus e questa nazionale la vedo benissimo. Io credo di non aver mai visto giocare così una nazionale. È un gioco di squadra, è emozionante, è una cosa incredibile. Quindi invito tutti, se riusciamo a passare il turno, a venire sabato alle 3. Chiedo a tutti di far vedere la partita. Ecco, l'ultima parola per le due friulane, Saragama e Ilaria Mauro. Beh, Saragama è una certezza. Mauro ogni volta che è entrata ha mostrato, insomma, di avere grandi doti. E ringrazio anche qua il Love Street Food che ci ha ospitato generosamente. Ecco, da Piazza Premo Maggio è tutto. Adesso noi torniamo a guardare la partita. A voi la linea. Grazie al nostro Marco Pasquariello insieme a Francesco Snidolo per questo collegamento in diretta. E oggi, come vedete alle mie spalle, vi raccontiamo la storia di Lauro, il cinghiale amico dei bambini, coccolato e viziato. Viva le porte di Udine! Si chiama Lauro, pesa due quintali e ha sei anni di età. Vittima di un gravissimo incidente stradale all'età di un mese, è stato trasportato da Ragogna al centro recupero fauna selvatica di Campo Formido. Qui è ospite da allora ed è diventato la mascotte del centro. Lauro Falvagno si fa coccolare dal suo padrone Maurizio Zuliani, elettricista in pensione di Campo Formido che da decenni si occupa degli animali selvatici in difficoltà. È un esempio di come anche un cinghiale possa essere addomesticato. Nei limiti, sia ben chiaro, Lauro si fa tagliare le setole dai bambini dell'asilo e il suo padrone gli taglia amorevolmente anche i peli delle orecchie. Vive insieme a caprette, grifoni, pappagalli, rapaci e tartarughe. È un animale domesticissimo, lui si fa grattare, si distende a terra, prende il cibo dalle mani, addirittura con i bambini elementari anzi, non delle elementari, delle scuole materne. Lo abbiamo anche spiumato, gli abbiamo tirato via le setole, quelle invernali. Infatti lui adesso è glabro quasi, è al pelame estivo. Maurizio vive qui vicino, abita proprio a due passi dal luogo in cui ci troviamo noi oggi e quindi assiste proprio notte e giorno, è il caso di dirlo, anche gli animali che arrivano nel cuore della notte. Certamente, noi facciamo un servizio di 24 ore su 24 per quanto riguarda la consegna degli animali, mentre per quanto riguarda il recupero della fauna sul territorio c'è il servizio forestale regionale, che è un servizio gratuito, che è dalle 7 di mattina alle 7 di sera, dal lunedì al venerdì. Devastano la tomba dedicata ad un cane e accendono dei falò. Il vandalismo si è verificato nei boschi di Ferailacco, frazioni di tricesima, e danni di un sepolcro creato da un macchinista di treni merci per il suo amato cagnolino defunto. Dopo la sofferta scomparsa dell'amato animale, il proprietario aveva deciso di rendergli degna sepoltura sotto un albero del bosco di famiglia. E' ignoti però, negli ultimi mesi hanno iniziato a profanare quella tomba, utilizzandola già in tre occasioni come base per i loro fuochi notturni, bruciando sia la croce in legno che l'epigrafa in fiulano che accompagnavano gli ornamenti. Spero di individuare gli autori di questo esempio, ci ha spiegato il tricesimano, chiede solo rispetto per il mio Giovanni seppellito in un terreno di mia proprietà. Tre concerti di artisti legati alla storica etichetta tedesca ECM, che ha sceltudine per avviare i festeggiamenti per i suoi 50 anni di attività, hanno aperto al Palamostre la prima edizione del festival More Than Jazz. E' partita col piede giusto la prima edizione di More Than Jazz, la nuova rassegna dedicata alla musica di improvvisazione, voluta dal comune di Udine e organizzata da Simularte col sostegno del CSS. Per la premiera al Palamostre, dopo l'avvio in stile marching band nelle strade del centro, il direttore artistico Glaucoveni era scelto di omaggiare l'etichetta di jazz europeo più famosa al mondo, fondata 50 anni fa da Manfred Eicher. La ECM Night, possibile grazie alla collaborazione di Stefano Amerio che nei suoi studi arte e suono registra da anni diversi jazzisti dell'etichetta, è stata la prima celebrazione ufficiale di un marchio diventato sinonimo stesso di musica che attraversa i generi. Tre i set presentati a un pubblico attento a partire dal chitarrista ungherese Ferenc Snedberger con un breve concerto acustico. A seguire, momenti di pura poesia con la violoncellista Ania Lechner e Dino Saluzzi, virtuoso di bandoneone. Da un paio di giorni in Friuli, il duo ha offerto un mix tra partiture accademiche e ritmi popolari, atmosfere cameristiche europee e i suoni arcaici dell'America del Sud. A chiudere, il veterano batterista Billy Hart, ospite di un duo d'oltre confine composto da Marco Czurn, Cez e Ioris Tepe. Stasera, omaggio a Frenzappa con gli studenti jazz del Tomadini e domani arriva William Simcock, lo storico pianista di Pat Mettini. Siamo in chiusura, l'informazione torna da Pordenone alle 20.45. Grazie per l'attenzione e buona serata.